Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di WeCraft Ragazzi, sto registrando subito dopo perché effettivamente ho voglia di finire questo procedimento che vi ho fatto vedere nella scorsa puntata Quindi vorrei mostrarvi la 100% Ed è per questo che oggi inizieremo a creare dell'energia solare Per fare l'energia solare ci sono vari metodi, infatti ci sono vari solar panel Quello più ovvio al momento da fare, secondo me, è questo qui della Solar Fax Reborn Che fa in sostanza 8 RF per T, che comunque basteranno in realtà per cioppare un albero perché alla fine quello mi interessa Ci sono altre cose strane che ci sono anche addirittura i cable, questa cosa mi piace E a questo punto, visto che ci sono i cable, possiamo sfruttare anche questa energia solare per fare varie cose molto fighe Quindi per ora iniziamo a fare questa roba, si va con del class qualsiasi, è un pezzettino di ferro Quindi ho bisogno di un po' di bellissima fantastica sand e un po' di cottura generale Quindi per il momento ragazzi mi vado a svuotare l'inventario di roba più o meno inutile alla fine E andiamo quindi a costruirci questo sistema molto molto veloce per creare energia Credo di avere tutto necessario ragazzi pronto e utile, quindi al 100% dovremo avere tutto E andiamo quindi qui ragazzi a farci un po' di roba Allora dovrei cuocere effettivamente un bel po' di sand, infatti ne ho fatti davvero parecchio di sand Bom glass a non finire, perfetto Quasi quasi, metto a cuocere anche un paio di questi Dovrei avere un altro super ore di questo qui Che potrebbe essere abbastanza importante perché super ore di iron, ne troviamo sempre un casino E mi servirà anche della redstone, quindi super ore redstone La prendiamo anche quella che non scherza sicuramente Bom, 42 pezzi di questa roba ragazzi E allo stesso modo facciamo 126 pezzi di redstone Ma non c'è niente di quanto quanta redstone facciamo È un botto Mentre per quanto riguarda questi super ore di gold mi sa che non ne abbiamo abbastanza Quindi dobbiamo andare avanti In realtà ce ne abbiamo 9 addirittura Guardate qua, è bello che facciamo tutta questa roba velocemente ragazzi 42 pezzi di gold Senza fare nulla di figo Quindi in realtà possiamo anche puntare a fare un po' di cose interessanti nella philosopherstone Poi vediamo per questa cosa Comunque ci importa in realtà al momento fare questa cosa molto 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 importante Ovvero andare a farci tutto il necessario Quindi facciamo questa roba così Anzi prima ci facciamo un blocco intero di redstone Che vi ho già detto ci servirà Ok, quindi questo qua ho fatto Poi bisogna fare così e così Bisogna fare questi due Abbiamo il nostro RF engine Questo in sostanza serve per creare energia E far utilizzare l'energia al posto del normalissimo wood qui sotto Quindi cos'è così ragazzi Vedete, no RF power Che dice guarda che non c'è energia Quindi dovresti darmi in realtà dell'energia Cosa giusta e conveniente Quindi andiamo a farci anche il restante Nelle cose che ci servono Ci servono credo tre di questi pannelli Con tre di questi Ah no in realtà oddio Ne facciamo, facciamone sei Ok Quindi facciamo così E con due di questi ragazzi E un bel po' di legno Che ora andremo a comunque a crattare tranquillamente Ci facciamo ben due pannelli solari ragazzi Così abbiamo due solar panel livello 1 In realtà per farne uno livello 2 Ne servono ben otto di questi Poi ci sta quello più alto Quello da 4, da 5, da 6 E in realtà si può anche continuare Per il momento noi siamo fermati in realtà qui Poi c'è sempre anche le cellule fotovoltaiche Che in realtà questa cosa sono state per i crafting Però va bene Ora facciamoci anche uno di questo Perché sicuramente come energia Mi sembrano niente male questi cavi Che sono i frost cable Che trasferiscono 80 RF vertical Fin fine a noi basterebbero così Senza fare quelli dell'endrio ragazzi Che sarebbe un po' una nottura di palle Quindi per ora facciamo così E ne mettiamo uno qua Così possiamo trasferire un po' di cavi qua Vedete questi questi dovrebbero attaccare qui Qua produce energia Ok Vedete charge E qui ovviamente va a riempire questa roba Questa cosa è una batteria da 40.000 RF Ovviamente quando si andrà a riempire questa Si andrà diciamo a riempire anche questa dopo Subito dopo Giusto il tempo che arriva La cosa bella è che qui In automatico adesso dobbiamo santo dargli dei sapling E lui infinitamente vi farà roba Però il problema è che magari che ne so La roba da qui dentro rimane Quindi noi vogliamo in qualche maniera che esca la roba Più o meno importante da lì dentro Quindi in teoria Se ricordo bene Questa cosa ora sarà da verificare insieme a voi Con una cesta accanto Che sia una cesta qualsiasi Questo cosa sarà una cesta di ferro Perché io ho voglia di farmi una cesta di ferro Dovrebbe metterci la roba dentro In realtà c'avevo già una cesta di ferro Ora mi sono ricordato Però dettagli Andiamo un po' se metto questa roba qui accanto Fa qualcosa del genere Andiamo un po' se metto tipo questi wood qua dentro No in automatico non me ne fa uscire Però forse forse C'è un upgrade Non me lo ricordo Vediamo un po' In realtà non c'è niente ragazzi Quindi mi sa che dovremmo approfittare di qualche altra cosa In realtà non andrebbe bene nemmeno un hopper Perché l'hopper dovrebbe far uscire tutta la roba standard A prescindere Però noi ci proviamo comunque Perché non si sa mai Magari con l'hopper funziona E non l'ho provato Quindi non saprei dirvi al 100% Se questa cosa funziona La cosa brutta è che in realtà Adesso bisogna fare un'altra chest E dovrei avere un po' di legno qui dentro Qui ce la dovremmo fare Perfetto Vediamo un attimo Se questo è cosa vera Guardate che bello Questo bellissimo panorama Fatto di fasci di luce Dovrei eliminarli Cosa che faccio anche nella risca Perché è una cosa brutta E fastidiosa Ogni volta vedere questi fasci di luce Ma non per l'occhio umano Quando ci finisci sopra Che madonna Che cosa brutta E vediamo insieme ragazzi Se funziona o no Questo procedimento invece con l'hopper Quindi in automatico adesso Mettendo la roba qui dentro E con un hopper dovrebbe funzionare O almeno credo Infatti lo vedremo assieme questa cosa Ovviamente mettiamo la chest qui sotto Mettiamo questa qui E diciamoli guarda così Vediamo un po' Quella roba esce Vediamo un po' se esce altro Non esce altro Quindi ok funziona Il problema adesso è che la wooden axe Non si va a ristabilire Quindi possiamo puntare a farci qualche upgrade Di questo stone chopper Magari quello iron Visto che ci siamo Come si fa l'iron chopper Si fa con dell'iron molto facile E questo qua standard Quindi quasi quasi Approfitterei della cosa Abbiamo qui un po' di ferro Già pronto Per poter farci anche questa cosa E allora infine Dovremmo avere tutti i materiali Oddio 20 dovrebbero bastare Perché sono 9 per fare questa cosa E poi sono un paio di altre cose Che mi servono per la restante parte No mi sa che Mi serviranno un po' di stick Infatti li ho fatti subito Ok quindi questa roba così Bam Questo Più questi qua In questa maniera Questo invece si leva Con questo E con questo Ci danno il chopper Questo qui O niente possiamo farci anche un chopper migliore Se avessimo tanto un pezzettino di ferro in più Cosa che Forse abbiamo No Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo ragazzi Calmi calmi Ok E ci facciamo quindi anche un'ascia di ferro Che almeno questa Dura un po' di più Quella dopo ragazzi Ovviamente con l'indiamante Però al primo momento lasciamo la perdere Perché tanto non ci importa nemmeno Più di tanto questa cosa Anzi Ora abbiamo fatto questo qui ragazzi Io vorrei Però sistemare un paio di cosette Perché mi sembra giusto andare così Faccio vedere comunque La cosa ragazzi Boom Guardate qua Can disable in charging pad config Questa cosa che adesso qui dentro abbiamo Tipo 3800 RF Ok E sta aumentando In realtà non capisco perché Non me lo fa vedere sempre Faccio vedere Se noi ci vogliamo cliccare sopra Per vedere quanta roba c'è dentro Forse è un bug visivo Ma quello non si può fare niente E quasi quasi Stavo dicendo Ora che abbiamo un po' di roba Possiamo puntare Quasi quasi Qui sotto A farci una cosa del genere Uno Dobbiamo scendere per ora Per forza di due Forse Quindi facciamo così Ok E con qualche altro cavo Vediamo un po' Se siamo fortunati A farci un paio di cavi Che tanto il Questo ce l'abbiamo eh Poi una cazzata 60 RF per ora Basta ne avanzano Secondo me Ci facciamo anche una farm Di roba più utile Sinceramente Così almeno Ci leviamo il fastidio Quindi facciamo così Così E adesso di qua Ci dobbiamo mettere ovviamente Il secondo sistema Che abbiamo creato prima Che però poi non abbiamo più utilizzato Perché semplicemente non avevamo L'energia O comunque l'utilità Per farlo adesso Quindi vediamo un attimo dove sta Eccolo qua il nostro wooden Lo lasciamo il wooden Per il momento Perché tanto sti cavoli E in teoria Può fare soltanto da uno Quindi per ora Ci accontentiamo di Utilizzarlo soltanto Per una cosa Poi faremo anche Per altre cose Mi sa che forse non serviva Sapete E vabbè sti cavoli Ormai l'ho già fatto E quindi mi accontento Mi sarebbe un pezzo Di dirt Mi sarebbe un dirt normale Per forza Quindi questo qua E visto che non ho voglia di andare In la chest Lo prendo da qua Come state vedendo Boom Ok Ora Bisogna soltanto In realtà Sistemarlo dentro Con le cose energetiche Bisogna però fare Un altro Di sistema Per l'energia Quindi devo fare Comunque un altro Coso del ref Ho preso un seed Molto molto veloce Per poter finalmente Fare quest'altra cosa Ragazzi Quindi ci mettiamo Questo seed sopra Ovviamente Ho bisogno di energia In questo caso Utilizzerò questo Quindi si dovrebbe Ricaricare Come state vedendo Ho visto soltanto una E mi sa che forse Mi conveniva migliorarlo Però per il momento Vabbè sti cavoli Tanto mi serve giusto Un pochino di cibo Al momento Poi sistemiamo tutto quanto E il problema è che Mi sa che non ho La mia hole In realtà ce l'ho Ok E quindi adesso Dovrebbe in automatico Ragazzi andare a piantare La roba sopra Al suo coso Quindi facendo così Vi faccio vedere Boom Inizia a runnare Quindi qua abbiamo Un po' di cose Ovviamente sempre range 1 Mi raccomando Per potenziali range Bisogna utilizzare Questa roba ragazzi Ovvero Un wither upgrade Però è un pochino Complicato a fare Quindi per il momento Lasciamo perdere Ok quindi qua funziona Tutto a posto In automatico Adesso quindi Creerà energia E mi farà La roba che mi interessa Mi ha messo i sapling Dove mi ha messo i sapling No Oh mio dio ragazzi Mi ha appena bruciato i sapling Oh no L'ho preso io quando l'ho rotto Ovviamente Non l'ho messo i sapling indietro Sono stupido Bene Direi che con questo Abbiamo comprato tutto quanto Ragazzi Quindi abbiamo più o meno Due farm molto veloci Una che mi creerà Una che mi creerà in realtà Del wood O dock wood in questo caso Poi in futuro Come ho già detto Lo vedremo anche Cotto E per ora Questa qui che mi produce Un po' di wheat Il wheat va bene Perché in realtà Così possiamo farci toast E tosto molto meglio Di queste bistecche Quindi immaginate Quanto sia figa questa cosa Ma li vedremo più avanti Quelli Quindi per il momento Aspettiamo un attimo Che l'energia qua si carichi Che qua carichi comunque L'energia anche in questo coso Perché comunque deve Riempire due cosi Ma per il momento Uno di questo Basta e avanza Oddio se vogliamo Possiamo metterci un altro Perché tanto ne abbiamo Cattato un altro Quindi perché dobbiamo Sprecarci in queste festerie Ce ne mettiamo un altro E ci facciamo Il doppio di energia ragazzi Così ci leviamo il fastidio Anche qui Ovviamente questo qui Non andrà a dare energia qua Però sti cavoli Perché a noi importa questa cosa Quindi boom Qua dovrebbe andare molto meglio Perfetto Abbiamo fatto tutto quello Che ci serviva oggi Quindi io vi saluto ragazzi Per questa nuovissima puntata Della nostra serie di wheat Questa dovrebbe essere L'ultima puntata di questa settimana E se riesco ragazzi In qualche giorno Dopo aver visto Questa puntata ovviamente Farò una piccola live Sulla wheatcraft In cui andremo magari A scavare Perché ho bisogno Un po' di materiali E sinceramente Ho un'idea geniale Che potrebbe aiutarmi parecchio Anche se non so Se funziona Quindi vedremo assieme Questa cosa Noi nelle prossime puntate Quindi mi raccomando Mi raccomando Seguite la serie Per poter vedere Tutte queste cose carine Nelle prossime puntate Ciao ragazzi E al prossimo video E al prossimo video